30 anni, direi che ormai si può dire, il tuo intervento in area non cambia la storia, siamo in serie A comunque, era rigore o no? Allora, io non sono mai stato un giocatore che faceva il fatto, quindi... Questa non è male ragazzi, con il bel sorrisino, questa non è male, quindi... Quindi, due, non mi ricordo niente, tre, se buttate, e l'abito ha visto benissimo. E l'abito, che interante, ha visto benissimo. Senti, se dovessi definire così... Sì, aspetta, qui sono scomentato da morire. E noi no, entro il mondo. E noi no? Noi no? Tu sentirai dalla mia corona di tutte quelle incusenze che si girano nell'assimmedico, è rigore, è rigore, io prendo tempo, cioè dicendo... Eh, sì, sentiamoci, lo sentirai, lo sentirai, ci siamo spaventati, però è andata venuta così. Potremmo passare la tua faccia la sala di domenica con te, non l'avresti potuto farlo.